5, 4, 3 per destra 6 e 60, occhio là giù in fondo sinistra 2 più gira, 2 più gira per destra 2 più 2 più in destra 43 meno tieni via tutto pieno in sinistra 52 più vai su sinistra 6 corta l'ascia 70 torna, torna e sinistro torna, torna e sinistro per destra 6 corta l'ascia per molto tanti albiri destra 5 chiude, 4 meno tieni su sinistra 4 meno tieni e su torna a te destro per destra 52 meno tieni su sinistra 3 meno lascia 3 meno lascia e poi via 50, sinistra 4 meno su destra 4 più corta 60, sacrifica a sinistra 6 lascia, su salta torna a te sinistro su salta torna a te sinistro 60 10 10 12 12 13 13 14 14 14 15 15